ciao questo è il solito il solito video che che riesco ad andare a recuperare nel guardare che mi sono e mi sono andato a vedere questo film che si chiama dall'alto di una torre fredda che visto che adesso lo hanno messo sulle solite sulle solite piattaforme sono riuscito nel guardare a guardarlo come stavo dicendo che come film e italiano che è uscito al cinema queste state che la sua data d'uscita cinema è stata proprio giovedì 13 giugno 2024 che essendo passato qualche mese adesso come ho detto prima lo hanno messo sulle solite piattaforme che adesso è facilmente magari trovarlo come film che se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare anche gratis che il solito film che come genere è drammatico che è stato distribuito da questa lucky head che la parte del regista la regia di questo film è di francesco frangipane che più che altro la trama del film parla più che altro che e lena e antonio sono sono gemelli cresciuti all'interno di una sorta di cellula invisibile che li contiene che li contiene entrambi che anzi magari la cellula si allarga solo a contenere anche michela e giovanni i loro genitori quel nucleo a 4 ride scherza tavola mescolare logicamente magari effetto ironia battute frecciate ma ma michela e giovanni soffrono di una malattia genetica che intacca i tessuti middle line che li ha colpiti entrambi quasi a rafforzare il loro legame legame che quasi a come si dice come si dice che come stavo dicendo michela e giovanni soffrono di una malattia genetica che intacca i tessuti midollari e che li ha colpiti entrambi quasi a rafforzare il loro legame legame simbiotico parallelo a quello fra i loro figli sarebbe dunque magari perfettamente magari simmetrico se i figli potessero donarlo all'uomo midollo salvare entrambi i genitori e Elena e invece solo Elena risulta compatibile rompendo quella simmetria che caratterizza la famiglia da sempre e che allo stesso tempo la loro forza è il loro limite e dunque Mre lei e suo fratello sono costretti a scegliere quale genitore salvare è una decisione disumana che la scienza li invita a comprare nel nome del giuramento di Ippocrate che secondo cui se anche una sola vita può essere salvata e nostro dovere salvarla che più che altro Mre lei la trama in sé del film è questa qua che anche se due a quei 90 minuti di film ci può anche stare che essendo magari film drammatico e italiano magari nel compresso come avrei fatta la trama ma come film ho visto che ci poteva stare anche se magari all'inizio quando ho visto che al solito film italiano io ho partito magari con quelle più di tanto di aspettative però ho visto che dalle recensioni che ho visto e magari anche prima di guardarlo come si dice letto ha andato a leggere la trama e sembrava che meritava e alla fine a me come film mi è piaciuto che ci poteva anche stare anche se italiano che ho visto che come film è stato tratto da questo come si dice sempre tratto dall'omonimo testo teatrale proprio di Filippo Galli che a farla breve la vita come si dice che la vita familiare di una famiglia normale composta da madre padre e due figli viene sconvolta quando si scopre che entrambi i genitori sono gravemente malati e solo uno dei due può essere salvato e spetterà magari ai figli decidere di comunicarglielo e soprattutto chi salvare che a farla breve magari la trama era questa qua che a me magari nel compresso mi è piaciuto come ho detto magari prima dopo logicamente può andare magari anche a gusti come film che vi lascio come al solito tutte le informazioni magari sul film sotto in descrizione sia il cast video trailer e tutte le informazioni che riesco a trovare sotto le trovate tutto sotto in descrizione che visto che adesso lo si può trovare sulle solite piattaforme gratis come film che se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare anche come ho detto gratis come film e li voglio magari dedicargli anche un video visto che sono riuscito a vederlo anch'io e niente che quello che magari posso di informazioni riesco a trovare come vi ho detto magari prima e li metto come al solito sotto in descrizione che quello che poterò dire magari su questo quello che poterò dire su questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao